Buongiorno, da Via Casilina Vecchia, cittadina della Carità di Roma. E' questo il rapporto che viene presentato in questi minuti. Appunto, la povertà a Roma, un punto di vista, numerosi dati offerti. Roma è una città che si impoverisce, soprattutto gli anziani in difficoltà. Oltre 146 mila, gli over 65 con 11 mila euro ogni anno devono far fronte ai disagi. Poi ancora i giovani con il 51% con contratti atipici. Il quinto, il sesto, il settimo, il decimo municipio dove si soffre di più la difficoltà. Un reddito individuale, pensate, al 51%, cioè quasi un romano su due, deve fare i conti ogni mese con 15 mila euro ogni anno, con 15 mila euro. 93 mila le famiglie senza occupati e in questo quadro 14 mila gli stranieri accolti. La metà degli assistiti della Caritas sono italiani, dunque, non stranieri. Sono con Elisa Mann, responsabile del centro studio. Ho dato, dottoressa, a volo radente i numeri, però è lei la più titolata, a offrirci il quadro. Il suo intervento, appena terminato, la ringraziamo per essere uscita al volo, il titolo era Roma, una città che si va impoverendo. È così. Roma sta impoverendo, soprattutto però si sta allargando la forbice sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una percentuale ridottissima, non arriva neanche al 2%, che ha un reddito superiore ai 100 mila euro, cioè minimo 100 mila euro, da 100 mila euro in su. A fronte di questa percentuale ridottissima di romani che vivono in una maniera, come dire, opulenta, c'è un 51% della popolazione, lei diceva molto bene, quasi uno su due romani, che deve sbarcare il lunario con 15 mila euro annui lordi. Capiamo bene che è un vallo, uno scarto, un allargamento della forbice che è veramente intollerabile. Esatto, ho anche parlato di un fenomeno, si approfondirà in questi minuti, il barbonismo domestico. Di che cosa si tratta esattamente? Qualcosa che abbiamo scoperto alla Caritas perché ci siamo resi conto, parlando con le persone che vengono nei nostri centri d'ascolto, che ci sono dei poveri, delle situazioni drammatiche, che non vanno a chiedere aiuto a nessuno e si rinchiudono nel loro appartamento dove spesso poi perdono ogni senso dell'igiene, ogni senso del decoro e così via. Per cui il collega sta facendo vedere probabilmente delle diapositive, diapositive di interni di casa, che sono veramente dei centri di spazzatura in cui troviamo abbandonato la persona anziana lì dentro. Capitolo giovani? I giovani purtroppo è una situazione molto complicata, anche lì perché il 25% è disoccupato a Roma e un altro 50% fa un lavoro atipico. Parliamo di giovani che arrivano a 39 anni, quindi non stiamo parlando di ragazzini, stiamo parlando di uomini, donne, che magari vorrebbero anche mettere su famiglia.